Riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica. Fuori freddi, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi. E questo me lo pappo io! Non me lo sputerà mica qui, eh? Non vorrà sputarlo qui, non farà una cosa simile, Fantozzi, eschi! Fantozzi! Forse lui non sa, come si chiamava quel fattorino, quello con gli occhi da pisci lesse? Fantozzi! Fantozzi! Fantozzi!